Che bello potervi ogni tanto presentare un libro di poesia e magari farvi scoprire uno dei più grandi poeti viventi oggi. Parlo di Adam Zagajewski con questa sua raccolta Dalla vita degli oggetti. La particolarità della sua poesia e uno dei suoi pregi, oltre che è facilissima da leggere, vi assicuro, è che è ambientata in mezzo agli oggetti di uso quotidiano. Insomma una poesia dell'anima che si fonde con le cose della terra. I libri per bambini devono avere assolutamente delle belle illustrazioni per piacere, come questo di Tommy Ungerer che in Crichton ci racconta la storia straordinaria di un serpente che arriva a casa di una vecchia signora come regalo dal figlio che vive in Brasile e alla fine diventerà un vero eroe. Roddy Doyle è uno scrittore straordinario, autore di Paddy Clark, di Commitment, da cui è stato tratto un famoso film, ma è anche autore di una vasta letteratura per ragazzi. E questo libro ve lo consiglio davvero, La gita di mezzanotte, perché affronta un argomento davvero difficile, quello della morte, come raccontare la morte ai bambini, come fa lui con levità, ironia, rigore e tanta dolcezza. Cosa è più importante nella vita di un essere umano? L'obbedienza o la libertà? Un quesito che è ancora più spinoso nel caso della coscienza di ogni cristiano. Temi che Vito Mancuso affronta con il suo consueto rigore e soprattutto fa pensare. E questo è uno dei regali più belli che oggi ci può fare un libro. Di solito io non presento manuali pratici, ma faccio volentieri un'eccezione per questo, Guida alla polizza RC Auto, perché è molto chiaro e in più è stato scritto da un bravo giornalista, Mario Riccardo Oliviero, che non si perde in inutili chiacchiere, ma ci regala proprio un manuale davvero utile. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo era un ufficiale dell'esercito italiano. Era anticomunista, monarchico convinto, eppure partecipò alla resistenza. Mario Avagliano con il partigiano Montezemolo ci racconta un'altra parte di storia d'Italia, quella che riguarda sempre la resistenza, ma fatta non necessariamente da comunisti, attraverso la storia di un moderato che era tra l'altro un antenato dell'attuale Luca di Montezemolo. Thomas Fuller, la cultura ha guadagnato soprattutto da quei libri da cui gli editori hanno perso.